Ciao a tutti ragazzi, qui è BlueLight e benvenuti oggi in questo nuovo video oggi sono qui in questo nuovo episodio di Minecraft Vanilla allora ragazzi, sono qui nel nether perchè sto andando a prendere un po' di quarzo perchè voglio fare il tetto al tempio quindi sono pronto con il mio piccone in siltax quindi andiamo a prendere questo quarzo quindi dobbiamo andare verso il portale che porta al land da questa parte e poi là vicino c'era molto quarzo allora ragazzi, intanto che faccio la strada e non corro perchè sennò non si caricano i chunk e lag lag pure se cammino, pensate vi volevo ricordare che domani, venerdì, sarò, verso il pomeriggio, verso le 5, le 6 sarò sui server SPHX quindi seguendo la pagina Facebook saprete bene in che orario andrò sui server e così per registrare l'episodio dei Younger Games che uscirà poi sabato quindi state attenti alla pagina Facebook e poi naturalmente venerdì uscirà anche un nuovo episodio di Mass Effect 2 quindi non perdetevi nemmeno quello che sta finendo la missione finale mentre adesso noi prendiamo il quarzo con Siltouch, il nostro piccone che da quando ho messo efficiency distrugge tutto efficiency 4 e come vedete già qua in questo piccolo corridoio c'è una cifra di quarzo quindi noi lo prendiamo ho un po' di blocchi a casa, tipo 2 stack 40 di quarzo proprio di blocchi di quarzo normali però non credo bastino per tutto quello che devo fare quindi devo fare il tetto al tempio però farò solo una parte e poi off camera lo finirò perchè c'è davvero tanto lavoro da fare ok ragazzi mi trovo in alto proprio sopra 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 e sono qua sopra appunto per rompere il quarzo allora ragazzi ho fatto 3 stack e 62 e adesso mi trovo sopra 2 stack di blocchi di quarzo e come vedete a sinistra ho messo aste nel beacon quindi mi scaverò molto più veloce poi sul piccolo avevo efficiency 5 quindi distruggerò questi blocchi intanto questi sono i blocchi che ho di quarzo 2 stack e 49 più 7 slab e un pezzettino di quarzo quindi con fortuna andiamo a distruggere questi 2 stack e poi distruggeremo anche gli altri rivediamo un po' quanti quanti pezzi riesco a fare però è lento questo è lento c'ho efficiency 5 e aste cos'è? lo prende aste no? si cos'è questo schifo? è col piccano normale? ma è la stessa cosa boh vabbè pensavo tipo un trapano che distruggeva tutto però vabbè è comunque veloce perchè il quarzo diciamo è un po' più resistente quindi vediamo quanti pezzi riesco a fare allora intanto qua sotto già c'è uno stack uno stack guardate pure i livelli sto al 23 24 e ancora ne ho rotto i primi 2 stack ne devo mettere un altro stack 62 nello 25 ok siamo quasi arrivati andiamo 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 ok vediamo raccogliamo tutti i pezzettini che stanno qua non è caduto niente qui ok chiudiamo qui chiudiamo ok vediamo prendiamo tutti i pezzi che sono caduti ci siamo ok da 2 stack a 5 stack di nether quartz vabbè di pezzettini ok ragazzi rompo anche questi questi altri blocchi e ci vediamo tra poco bene ragazzi ho rotto tutto il quarzo questo è il risultato però prima di fare il tetto del tempio del tempio sono arrivato al livello 30 e ho incantato questo libro è uscito per power 4 io ho sull'arco power 4 e quindi lo unirò qui 15 livelli sto al 17 power 5 infiniti 1 unbreaking 3 l'arco è una bomba quindi iniziamo subito allora io ho i blocchi normale no però devo fare anche le scale e gli slab quindi mettiamo tipo la crafting table eh vabbè la mettiamo qua a volante allora ho 7 slab ce ne facciamo un po' di slab perché ne servono un po' però non più di tanto ok 43 beh facciamo così poi ci facciamo anche un po' di scale quindi facciamoci le scale vediamo ce ne ho 0 ce ne facciamo così sono 24 e poi le case led poi lo faremo più in là adesso vediamo no sì sì lo facciamo più là dai intanto iniziamo a fare a meno i bordi allora quindi scale e slab e anche blocchi normali quindi iniziamo a mettere a fare il bordo allora qui togliamo questa torcia e andremo a mettere scusate ma ok prendiamo questi ce ne mettiamo tutti qua vicini carini carini tutti insieme ok allora iniziamo con uno slab qua sopra poi mettiamo un blocco e faremo questa cosa alterniamo scale blocchi e slab quindi adesso io ho messo blocco e slab e adesso andremo a mettere la scala qua sopra poi blocco slab e scala sopra quindi andiamo a salire finché non poi non arriviamo al centro quindi scusate ma me lo lo trovo un attimo il centro la vediamo no calcoliamo da qua va che mi ritrovo meglio il centro è questo in teoria no ok questo è il centro quindi poi facciamo una sorta di cosa qua ok da qui questo è il centro in teoria si questo è il centro ok facciamo così fammi salire il centro è sempre quello facciamo così allora vediamo uno due uno due ok questo qua sarà il centro quindi mettiamo qua questa ok la mettiamo così random quella è il centro perfetto quindi adesso posso lavorare tranquillamente quindi qua abbiamo messo lo slab dovevo mettere la scala sopra perfetto quindi sarà appunto un alternarsi di queste tre elementi diciamo quindi scala mettiamoli tutte e tre vicino così faccio il più veloce possibile fino ad arrivare appunto là sopra al centro e poi fare anche l'altro lato ok fatta la prima parte e sistemato anche qui il centro quindi tre slab scala scala e blocco al centro facciamo anche l'altra parte quindi facciamola quindi è slab poi è blocco slab scala e quindi fino ad arrivare là sopra poi mentre è all'interno andrò a mettere del case led del case led quars quindi ci vorranno un po' più di blocchi però almeno è più è più è più bello è più decorato ecco perché il case led è molto diciamo da molto più diciamo un tocco in più alla struttura perché il quarzo così normale sembra tipo manicomio tutto bianco la stanza del manicomio vabbè quindi siamo arrivati arrivati qua ho dovuto fare questa cosa di terra se no non riuscivo a camminare ok perfetto la parte dei bordi è fatta e quindi andiamo a mettere adesso il case led quindi questa la tolgo e naturalmente adesso che vabbè poi la toglierò tutta questa terra e io poi farò riporterò tutti i blocchi quindi qua tutta la fila di blocchi di quarzo qua tutte scale per fare tutto il tetto e dentro sarà vuoto quindi ci sarà solo la parte della facciata in case led solo questa parte qui che vedete vuota e quindi facciamo appunto i nostri case led allora bisogna fare vabbè i slab adesso ne facciamo un altro po perché tanto mi servono sia per finire il tetto che per fare il case led quindi ne prendiamo un altro po facciamo tipo così questo lo usiamo per il case led ok 24 allora ne prendiamo vabbè il quarzo c'è no facciamo così direttamente così 45 45 è davvero poco facciamo direttamente così perfetto così non sbagliamo uno stack e 13 potrebbero potrebbero dico potrebbero bastare quindi si fa facciamo tutta una fila qui tutto in case led naturalmente è arrivata pure la notte ci mancava solo quella vabbè qua sopra forse spawna qualcuno devo stare attento poi da qui facciamo questo e poi adesso mi sono ricordato che devo sistemare un attimo una cosa sotto allora vediamo il case led ecco si questi due pezzi erano blocchi normali ok si che pari ok ok così qua tutto case led tutto case led però pure da quest'altra parte allora intanto mi si è rotto il piccone normale qua l'avevo messo uno perfetto e quindi ne mettiamo un altro ok adesso da qui andiamo a scendere con i case led e finiamo questo almeno la facciata ok da qua sotto mi trovo meglio adesso ok si fatta la parte sopra adesso so vado molto più tranquillo ok uno due perfetto abbiamo finito e ci sono avanzati pure un po' di case led uno e due perfetto ok quindi questa la posso togliere ecco questa è la nostra facciata allora dato che ci sono e i case led vabbè non mi servono più adesso continuo almeno questa parte dei bordi faccio vedere la facciata ok ragazzi ecco qui la nostra facciata devo dire che mi piace molto quindi adesso andiamo a fare almeno una parte dei bordi ok ragazzi ho fatto 48 slab e quindi andiamo a fare almeno una parte del bordo la continuiamo così poi off camera ho meno lavoro da fare devo naturalmente andare a prendere altro quarzo perché di sicuro questo non mi basta però almeno ci portiamo avanti e vi faccio vedere almeno quello che appunto andrò a fare poi off camera quindi devo riportare tutti i blocchi che ci sono intorno fino all'altra parte ma totale è da fare la stessa cosa come ho già detto prima dentro sarà vuoto non ci sarà niente e adesso vediamo quanti blocchi ho ancora 40 vabbè insomma sono un po' pochini però ce la si può fare diciamo ecco le scale giusto un po' un problema ce ne ho poche ed è pure la parte diciamo un po' più difficile per metterle però vabbè facciamo allora facciamo una cosa facciamo almeno fino a metà così faccio vedere almeno un lato e poi dato che sono caduto facciamo almeno un po' di scalette ok almeno da mettere qua facciamo così saliamo e almeno mettiamo queste così almeno questa parte almeno metà più o meno l'ho completata allora questa parte ok saliamo facciamo così almeno non casco di nuovo perché si ho fatto una fail si è cascata e poi vabbè finiamo questi ultimi blocchi poi li riprenderò ci vorrà molto tempo perché appunto sono molti blocchi però viene alla fine una cosa molto epica allora vediamo un po' qui dove siamo cado no per fortuna non so cascato ok ragazzi ho messo tutti i blocchi e le scale mi mancano solo questi 27 slab quindi andiamo a fare il bordo dei slab e così proprio ho messo tutti i blocchi tranne i case led stiamo attenti a non cadere dietro facciamo così e quindi abbiamo almeno fatto una parte di questo tempio allora adesso proverò a farvelo vedere anche dal lato intanto vedete qua mancano le scale mancano le scale mancano le scale così stanno e qua pure però devo fare molte molte scale però almeno posso fare questo posso scendere e salire con le scalette perfetto allora adesso per farvelo vedere da no vabbè questo lato non c'è andiamo sulla montagna tanto dovrebbe andar bene tipo da là proprio euro salto ok ecco qui almeno metà metà tempio più o meno metà tetto del tempio però ci siamo e devo dire che viene proprio una cosa molto molto bella ed epica quindi togliamo aste mettiamo jump boost ok vediamo un po' com'è jump boost che non l'ho provato tutti i potenziamenti anzi voglio provare che abbiamo qui scusate strange pure vado proprio dall'iron goal e me l'ho shotto vediamo quanto saltiamo quanto saltiamo quanto saltiamo a me sembra normale eh saltiamo le scale qua tipo si saltiamo le scale quindi quanti che so due blocchi tre blocchi si qua salto buono vabbè vediamo con f5 eh mezza all'era facciamo una cosa avete visto l'interiore di blue light allora vediamo tipo da qua quanto salto insomma vabbè si è sempre di più si si è nettamente di più proviamo senza salto perché c'è sembra che salto normale però in realtà no perché c'è appunto jump boost vediamo adesso mettiamo strength ok chiudiamo vediamo un salto normale boh saltiamo le scale no ok 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 allora va bene vediamo tipo da qua io prima le saltavo no perfetto ok si era potenziato il salto ok allora vediamo anche la forza uccidiamo questo golem il villager è rimasto là ragazzi ancora non sono riuscito a farlo salire farlo ritornare nel suo villaggio nella struttura intanto shoottiamo il golem perché tanto mob qua ancora non se ne vedono perché è tutto illuminato diciamo la vediamo tutti là all'angoletto tutti carini mamma mia se muoio cioè sono tipo già morto in teoria però vabbè allora c'è regeneration pure dai gli famo i critici guarda nemmeno non ha respirato ragazzi ragazzi non ha l'avete visto respirare io non l'ho visto respirare io no è riuscito solo a darmi una botta ma mi ha dato il cuore io non l'ho visto io ho tutti i cuori mamma mia l'ho shoottato perca miseria il golem non ce n'ha di vita parco giuda l'ho massacrato quindi se tipo da un pugnetto a questo muore vabbè tu sei sempre quello con le battle of the center un mob un mob per testare la mia eh sì però se mi allontano più di se mi allontano questo non funziona vabbè vai 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 velocemente attiriamo gli zombie attiriamo gli zombie qua non funziona più vero infatti attiriamo vieni 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 nessun altro ma poi posso stare nell'acqua la tua intelligenza no e insomma questo è un blocco in più oh devo provare solo stranger non ci provare fammi male vieni qua e basta muovi muovi il culo dai 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 ok qua c'ho strange gli facciamo un critico mmm interessante credo che te ro strange credo di sì è molto interessante quindi per tutti i pericoli ci sta il nostro caro beacon quindi molto molto buono forza è davvero è davvero potente ok mangiamoci la carne di zombie non l'ho mangiata sì non l'ho mangiata ok quindi con hunger stranger regeneration io vi dico che per questo video è tutto spero vi sia piaciuto vi ricordo domani il video di mass effect ma soprattutto nel pomeriggio di stare attenti nella pagina facebook per appunto vedere il post che dove io scriverò sto andando su server sphx venite pure voi così giochiamo insieme tutti felici e contenti quindi se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace di commentare se non avete ancora fatto iscrivervi al canale la pagina facebook è in descrizione e anche il sito web quindi ciao a tutti da bluelike